Sono migliaia le persone che da ottobre 2022 sono state assistite dalle associazioni e le cooperative della Puglia Non Tratta, il progetto nato nel 2016 per contrastare ogni tipo di sfruttamento umano e combattere la criminalità che gestisce la tratta delle persone. Un progetto in cui Regione Puglia ha investito per provare a salvare le persone dalle organizzazioni criminali, riducendo in questo modo anche il numero di reati. Investiamo 1.900.000 euro per la salvezza di persone che sono a rischio o di sfruttamento o addirittura di adesione a scelte criminali. Questo è l'unico modo per abbassare il numero di reati e per salvare le persone. Sono due cose importantissime perché non si può fare tutto con le indagini, le ordinanze di custodia cautelare e la galera. C'è uno spazio di politica criminale non repressiva grandissimo nel quale la Puglia è capofila non solo in Italia ma nel mondo intero. La quinta edizione si è conclusa lo scorso febbraio e il progetto è stato positivo con oltre 200 persone che sono transitate dagli sportelli e più di 4.000 incontrate dall'unità di strada. Noi quello che facciamo è supportare le persone, far emergere alcune situazioni. Chi trova la forza di denunciare delle situazioni di assoggettamento poi riesce in qualche modo e grazie anche al lavoro dei nostri operatori a cambiare il proprio percorso di vita. Spesso le vittime di tratta sono persone che sono state costrette a lasciare il loro paese oppure ingannate della possibilità di un lavoro migliore e quando poi sono arrivate in Italia o nei paesi di transito hanno scoperto che avrebbero dovuto prostituirsi oppure lavorare di fatto come degli schiavi.